ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora ai navi reaction ragazzi per questo video come mi avete suggerito andiamo ad ascoltare castro alla sua nuova canzone quindi vi porto al cuore in albania prima di iniziare grazie a tutti per i messaggi positivi che mi state mandando nel video di noi si lo apprezzo moltissimo l'unica cosa che vi dico ragazzi è inutile che mi scrivete che lingua parlare perché se faccio albanese devo parlare in albanese faccio quello italiano parlo in italiano in inglese parlo in inglese turco quello turco non ci capisco più niente quindi il video è mio faccio quello che voglio quindi ragazzi godetevi il video senza troppo polemiche e godete le mie reazioni se vi piacciono ok quindi partiamo subito con la canzone di castro partiamo ragazzi ok devo dire che lui è un cantante che io non conosco questa è la prima volta che faccio una reazione sua quindi credo che sia un cantante nuovo nella scena rap rap albanese perché non lo conosco però sono curioso quindi partiamo e fatemi sapere lui è di kosovo è albanese lasciatemi qua il commento qualcosa su di lui perché non so nulla partiamo ragazzi ok ok ragazzi ok ok ecco perché me l'avete suggerito questa canzone bellissima partiamo grande castro è il capo ok ragazzi interessante questo cantante non l'avevo mai ascoltato molto 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 interessante non so se faccia solo canzoni d'estate belle così oppure fa anche del rap classico non lo so non ho una minima idea su chi lui su chi è no del cantante cosa fa con cosa chi lo produce chi è la sua casa non lo so assolutamente nulla lasciatemi nei commenti qualche informazione su questo ragazzo va bene sembra bravo oh no ripartiamo questa parte qua che ve lo so persa partiamo voglio ripartire wow ragazzi c'è da dire che è veramente bravo non me l'aspettavo non lo conosco quindi io me l'aspettavo però ragazzi mi piace andiamo ok non ho capito l'unica cosa nella parte del ritornello è sempre lui che canta la voce sembra molto diversa però non vedo nessuna collaborazione quindi è sempre lui che canta anche nel ritornello cambia la sua voce in maniera radicale da una parte all'altra quando canta il ritornello in questa maniera qua cambia la sua voce invece quando rappa c'è strano mi ricorda un po il ragazzo lì che ha fatto di una canzone sempre benzi fenni ok anche la sua voce cambia tantissimo in base a ritornello è la canzone ma la sua incredibile cambia tantissimo cambio il ritmo cambio è bello è bello perché non ti annoi durante la La canzone Consuma quanto un aereo Ok, ok Castro Andiamo Interessante questa canzone E voi guardate la sua Incredibile ragazzi Mi piace, mi piace molto questo ragazzo Mi piace il ritmo, la canzone è veramente molto molto carina Ok E questa sua voce mi sta facendo impazzire Guardate la voce Cambia la voce E' incredibile ragazzi Comunque Comunque C'è da dire Questa è la mia prima reazione Che sto facendo di questo cantante Ragazzi C'è da dire Suggeritemene altre Perché veramente Lui è molto 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 interessante Wow Ok 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 ragazzi Penso che sia finita A questo punto Si è finita Ragazzi che dire E' un ragazzo che non conoscevo Grazie per i suggerimenti Come avete visto Quando mi suggerivo ai cantanti Io lo vado subito a controllare Perché veramente Io sono sempre nella ricerca Delle canzoni belle Della musica bella Quindi non vi scordate Ragazzi Iscrivetevi al canale Suggeritemi qualche altro Cantante emergente Come lui Che sia bravo Ok Che sia bravo Mi raccomando Iscrivetevi Seguitevi sul mio canale Instagram Così potete chiedermi Delle informazioni Eccetera Per questo video era tutto Noi ci vediamo alla prossima Ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao Ciao